La Nigeria si qualifica con il secondo al girone, 1-0 di Neresi, grande controllo sul lancio di Banega, battuto il portiere Uzzobo, l'esultanza di Tiero Maradona ad apprezzare il controllo in corsa di Messi che poi incrocia e supera l'estremo difensore nigeriano, Messi che colpisce il palo sul calcio di punizione al 34esimo. In avvio di secondo tempo, fanno da rigore di Mascherano che trattiene Paolo Ogun, si presenta sul rischetto Moses che non fallisce, il pareggio della Nigeria, in avvio di secondo tempo, 1-1, battuto il portiere argentino Franguini, grande opportunità per Igalo, attaccato in ingegnale a crezione, il volo dare il tocco di braccio del difensore Rocco, prima colpisce la palla di testa, e lo stesso Rocco che ha 4 minuti dalla fine, firma in colpa a tutti, 2-1 Argentina. Grazie